Panerai Luminor GMT Automatic, armonia tra eleganza e funzionalità. Se siete alla ricerca di un orologio da polso che sia al tempo stesso elegante e funzionale, il Luminor GMT Automatic potrebbe essere la scelta ideale per voi. Si tratta di un modello che si caratterizza per il suo design raffinato, la sua capacità di indicare due fusi orari contemporaneamente e la sua precisione meccanica. Il Luminor GMT Automatic è un orologio da polso prodotto dalla nota casa orologera italiana Panerai, fondata nel 1860 a Firenze. Il nome Luminor deriva dal materiale luminescente usato per rendere visibili le lancette e gli indici anche al buio. Il Panerai GMT si chiama anche Automatic perché è dotato di un movimento meccanico a carica automatica, ovvero non ha bisogno di essere caricato manualmente tramite la corona, ma si ricarica sfruttando il movimento naturale del polso. Questo tipo di movimento offre diversi vantaggi, tra cui una maggiore praticità, una maggiore autonomia e una maggiore affidabilità. Il Luminor GMT Automatic è un orologio da polso meccanico con funzione GMT, che significa Greenwich Mean Time o tempo medio di Greenwich. Questa funzione permette di visualizzare l'ora di due fusi orari distinti contemporaneamente, grazie a una lancetta supplementare che gira su una scala a 24 ore. Questa caratteristica è molto utile per chi viaggia spesso o per chi ha contatti internazionali, in quanto permette di sapere sempre che ora è, in un'altra parte del mondo. Un'altra complicazione presente è il datario con finestrella a ore 3. Sul quadrante si può visualizzare il contatore dei piccoli secondi a ore 9. Il quadrante può essere nero, verde o blu con indici e o numeri arabi luminescenti. La lancetta delle ore e dei minuti sono nere o argento a forma di matita e sono anch'esse luminescenti. Il Luminor GMT Automatic è impermeabile fino a 100 metri. La cassa dell'orologio, ad esempio è realizzata in materiali di alta qualità come l'acciaio inossidabile, presenta una corona protetta da una levetta a ponte perché si tratta di una caratteristica distintiva dei modelli Panerai. La levetta a ponte è un sistema brevettato da Panerai nel 1956, che ha lo scopo di garantire una maggiore impermeabilità e una migliore presa della corona, oltre a conferire all'orologio un aspetto iconico e riconoscibile. La levetta a ponte è costituita da una parte metallica che si aggancia alla cassa e che copre la corona, impedendo che questa venga accidentalmente ruotata o urtata. Per regolare l'ora o la data, è necessario sollevare la levetta e liberare la corona. Una volta terminata l'operazione, è sufficiente riabbassare la levetta e bloccare la corona. La levetta a ponte è uno degli elementi che rendono il Panerai Luminor GMT Automatic un orologio elegante e funzionale, in grado di resistere alle condizioni più estreme. Grazie. 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 Grazie.